Oltre 36.000 dosi di vaccino anti-covid sono a disposizione negli hub della ASL di Pescara, che rischiano però di non essere utilizzati, perché ormai in molti pensano di essere immuni, nonostante gli aumenti dei contagi. La Regione Abruzzo ha messo in campo tutti i mezzi necessari per somministrare la quarta dose, lo afferma il dottor Rossano Di Luzio, direttore dell'Unità operativa complessa, organizzazione e cure territoriali, è responsabile della campagna vaccinale dell'azienda sanitaria locale, il quale ribadisce che la vaccinazione rimane uno strumento importantissimo per combattere il coronavirus, visto che i contagi sono in crescita, spinti dalle sottovarianti Omicron 4 e 5, ancora più contagiose della Omicron 2. Le persone a rischio corrono ancora pericoli, evidenzia il dottor Di Luzio, parliamo in particolare degli over 80, dei fragili, over 60, degli immunocompromessi di tutte le età. Padisce ancora una volta la necessità di effettuare per le persone ultraottantenni e per le persone tra i 60 agli 80 anni, che hanno delle fragilità importanti, quindi patologie importanti, la vaccinazione della quarta dose, perché i numeri dell'epidemia sono ancora molto alti, a differenza degli altri anni che già in questi giorni registrarono numeri bassissimi. Quali hub vaccinali sono aperti e quindi a disposizione, sia per le quarte dosi che per le altre somministrazioni, sul territorio della ASL di Pescara? Abbiamo due hub vaccinali, uno a Pescara, in via Colle Renazzo 11, l'ex supermercato Lidl, che è aperto il martedì e il venerdì mattina. Un altro aperto ogni 15 giorni a Penne, nei campi sportivi di Penne, nella località campi sportivi di Penne, che è aperto il venerdì, il 24 giugno, è sempre il pomeriggio, e poi apriamo un giorno alla settimana all'ufficio vaccinazioni qui della sede centrale, questo servizio è dedicato ai bambini. Queste dosi, se non vengono inoculate, che fine fanno? Alla scadenza del vaccino, il vaccino come tutti i farmaci ha una data di scadenza, quindi quando scadrà saremo costretti a smaltire mediante le procedure come farmaci scaduti.